Il MIPAI, Movimento Internazionale per la Pensione Anticipata Indipendente, è il primo movimento di persone che utilizzano un metodo e uno stile di vita specifico con un obiettivo ben preciso e prefissato, raggiungere la pensione in pochi anni e potersi ritirare dal lavoro in maniera totalmente indipendente e controllata. Ed è realizzabile da tutti e soprattutto insieme, sì sì, proprio insieme. Nel MIPAI vogliamo raggiungere un obiettivo, l'obiettivo della Pensione Anticipata, tenendoci per mano nel nostro movimento e aiutandoci a vicenda. Nel MIPAI mettiamo in atto il nostro stile di vita, quello lontano dal consumismo, lontano dal sistema politico, sociale, economico e finanziario che ci riporti alla vera essenza e ci faccia a godere la nostra vita al pieno, come quando andiamo a fare una camminata su un fiume e ritroviamo l'essenza senza dover spendere, perché ci siamo accorti che l'essenza vera nel nostro movimento è quella gratis. L'essenza vera non si paga, si pagano le cose consumistiche che ci danno delle soddisfazioni di breve, ma le cose vere, l'essenza vera è sempre gratuita. Nel MIPAI abbiamo i nostri metodi, quelli studiati per noi, quelli che guardano la nostra economia, che ci portano al nostro risultato, che sono sicuri e controllati e che danno la possibilità a chiunque più o meno colto che sia di raggiungere sempre e comunque l'obiettivo. Nel MIPAI abbiamo il nostro calcolatore, non un calcolatore effimero che ci manda in pensione quando vogliono gli altri, quando siamo troppo vecchi, quando non vogliamo più e alle condizioni di altri dandoci gli spiccioli, ma abbiamo il nostro calcolatore che in base al nostro stile di vita ci dice quando potremo andare in pensione, negli anni che decidiamo noi con la pensione che decidiamo noi e abbiamo la possibilità di ritoccare la nostra vita per fare in modo che questo tempo che dobbiamo attendere sia sempre minore, sempre più a nostro favore. Nel MIPAI guardiamo la nostra economia e ogni volta che guardiamo il nostro calcolatore rimaniamo stupiti perché riusciamo a comprendere quello che le altre persone non hanno mai compreso, che per raggiungere la pensione anticipata indipendente serve molto meno tempo e molti meno risultati di quelli che ci si aspetta. E il nostro calcolatore ci dice anche, lasciandoci veramente ancora più stupiti, quanto riusciremo a vivere dopo la pensione e nella maggior parte dei casi si riesce a vivere per sempre di rendita. Nel MIPAI, oltre ai nostri metodi ufficiali, abbiamo i nostri allenatori che sono persone come noi che ci aiutano durante il percorso verso la nostra luce che è la pensione anticipata indipendente, ci aiutano a vivere giorno per giorno affinché il percorso non sia un percorso brutto per raggiungere un qualcosa di bello, ma sia un qualcosa di talmente bello che forse il risultato finale ha una valenza molto minore e ci aiutano i nostri allenatori all'interno del MIPAI a vivere meglio nelle relazioni, a vivere meglio nella nostra vita, meglio con il nostro corpo, meglio con il nostro essere, meglio con la nostra mente. I nostri allenatori ci aiutano passo a passo a migliorare ogni giorno là dove non riusciamo arrivare noi. Nel MIPAI abbiamo i nostri dieci comandamenti che ci sorreggono e ci illuminano ogni volta il cammino, aiutandoci a non sbagliare, aiutandoci a non fare errori o nel caso degli errori aiutandoci a ripartire nella maniera migliore. I dieci comandamenti del MIPAI sono la nostra luce e le nostre tavole della saggezza. Nel MIPAI abbiamo la nostra filosofia di vita, abbiamo il nostro percorso di vita o meglio abbiamo la nostra nuova vita. Entra con noi nel MIPAI. Grazie a tutti.